Musica 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 Grazie a tutti. 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 2-0 la chiude qui il Milan. Taro Spacca grande giocata. La sua esultanza. 48 minuti. 2-0 la chiude qui il Milan. 2-0 la chiude qui il Milan. Con questa volta la tattica dei giocatori del Milan che sono andate a creare problemi si lamenta infatti Diego Alves di centro che non potrebbe regolare. C'è arriva Isharavi. 2-0 la chiude. 1-0 la chiude qui il Milan. 1-0 la chiude qui il Milan. la volta di Sciglio sta facendo una gran partita. Sempre propositivo, sempre in proiezione offensiva. il Milan. 1-0 la chiude qui il Milan. 1-0 la chiude qui il Milan. 2-0 la chiude qui il Milan. 2-0 la chiude qui il Milan. 3-0 la chiude qui il Milan. Sulla respinta di Aversafi segna un gol semplice semplice di l'esterzo di questa Coppa d'Asia. Grazie per la visione!